Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Ma cosa succede questa volta? Ho tre allarmi rossi! Fa troppo caldo! Non so cosa mangiare e devo affrontare la prova costume! Ho io la soluzione ai tuoi tre allarmi rossi! Anzi, tre soluzioni in una! Ti va bene? Ciao amici! Eh sì, arriva il caldo e tutto quello che comporta di confortante e di allarmante! La prova costume non preoccupa solo te! Ah no? Siamo in tanti! L'esigenza principale è trovare il modo di nutrirsi adatto quindi detox, leggero, dimagrante! Ma dobbiamo anche restare nutriti per non avere cali di energia sentirci mancare le forze! Non è più l'era in cui per dimagrire basta ridurre le calorie e privarsi di tutto! Oggi per dimagrire bisogna essere smart! Io ho tanta voglia di mangiare cose dolci e fresche ma non voglio rovinare tutto! Cosa devo fare? È più facile di quanto credi! Per fortuna ci ha pensato la Foodspring bevi uno Shape Shake in alternativa ai tuoi snack e ai tuoi dolci! Shape Shake è il frullato proteico con meno carboidrati, meno grassi, più proteine e più fibre così mentre dimagrisci perdi massa grassa e guadagni massa magra! Costruisci anche una buona muscolatura che rende il tuo corpo molto più bello di qualsiasi dieta, zero calorie o zero grassi che ti svuota e basta! Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace, tanti nuovi video! Shape Shake è buono come un frullato ma riduce le calorie e lo puoi bere fresco! È perfetto per chi fa sport, chi vuole tenersi in forma, chi si allena perché sostiene senza pesantire, è proteico ma senza zuccheri così bevi solo nutrienti che danno energia e fanno crescere i muscoli Ma aspetta! Ottieni anche un altro risultato straordinario! Shape Shake contiene anche inulina una sostanza naturale estratta dalla radice di cicoria che ti fa un regalo enorme! Mi fa sparire la ciccia e la sostituisce con i muscoli subito? Quasi! Ti aiuta a regolare il livello di zuccheri nel sangue e ti fa passare la voglia di dolci ma pensa che liberazione! Così bevi solo nutrienti che danno energia e fanno crescere i muscoli e lo fai bevendo un frappè dolce gustoso senza zucchero ma con stevia Puoi scegliere tra i sapori di vaniglia, cacao, cocco, nocciola o più fruttato lampone, banana, fragola, mango basta aggiungere acqua perché il resto è tutto qui io lo prendo al cocco lo adoro ma a me la voglia di dolce viene anche dopo pranzo e dopo cena il pericolo di un attacco incontrollato di fame e la voglia di dolci sono sempre dietro l'angolo puoi utilizzare Shape Shake per integrare il pranzo o la cena e ogni tanto ma non sempre puoi bere uno Shape Shake come pasto sostitutivo completo così siamo a posto sazi con poche calorie la voglia di dolce è soddisfatta e non abbiamo sensi di colpa eh senso di colpa a spendere per mangiare bene quello mai i soldi per la salute sono il miglior investimento comunque per fortuna la Foodspring ha un ottimo rapporto qualità-prezzo come molti di voi già sanno e mi hanno scritto e poi tutti i miei follower possono inserire il codice sconto VINALI piccolo YT grande per avere subito uno sconto del 15% così i soldi risparmiati ve li godete in vacanza col vostro nuovo bikini allarme rosso rientrato grazie Simona sul mio canale trovate la playlist con tutti i consigli bruciagrassi e le ricette per dimagrire mangiando e per vederli tutti basta iscriversi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici e nei commenti qui sotto scrivetemi come avete pensato di affrontare la prova costume quest'anno mmm che buono qualetto provalo anche tu oh gli piace funziona noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente ciao alla fine no sono Simona Vignali very good very very good though